Il patto dell'agro non muore. L'assemblea dello strumento di partecipazione che ha segnato la storia dello sviluppo della Valle del Sarno ha deciso che resterà in vita almeno fino al 2020. La deliberazione è arrivata durante la riunione di ieri pomeriggio. La decisione è stata adottata dal 60% dei soci con il voto favorevole della Regione Campania e della provincia di Salerno, più alcuni sindaci. Dunque, nonostante i forti contrasti e le perplessità sollevate da diverse amministrazioni comunali importanti per peso politico e numero di abitanti, come Nocera Inferiore e Superiore o Pagani, che avevano anche deliberato la fuoriuscita, il patto continuerà ad esistere. Resta in carica anche l'attuale presidente, Gaetano Montalbano. Il patto prorogato fino al 2020 è un punto su cui voi vi siete astenuti e sul bilancio siete anche usciti dall'assemblea. Qualcosa di chiaro l'avevamo già espresso anche precedentemente nelle riunioni che abbiamo avuto per quanto riguardava il patto e altri organismi comprensoriali, perché se c'è qualcosa di nuovo, se c'è da creare un organismo con una mission diversa, con qualcosa che possa dare dei risultati sul territorio, allora ben benca. Ma procrastinare determinati organismi a noi non va a genio per il semplice fatto che abbiamo fatto anche un indirizzo del Consiglio dove noi usciamo da questi enti sovracomunali. Quindi abbiamo lasciato decidere gli altri, abbiamo partecipato per poter esprimere la nostra posizione in maniera chiara in rispetto anche per gli altri colleghi e poi sul bilancio logicamente, visto che non ci appartiene, non vogliamo continuare, ci siamo allontanati. Per il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano è solo però un modo per prendere tempo in attesa di un pronunciamento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Cuofano, più che il patto, immagina un ruolo più forte della provincia. Credo che dobbiamo attendere l'incontro che abbiamo in previsione con il Governatore della Regione per comprendere quale sarà lo sviluppo o l'eventuale riorganizzazione di questi strumenti. Credo che oggi abbiamo un'occasione importante dinanzi a noi, pur non condividendo pienamente il Decreto del Rio, però oggi ci sono più possibilità. Quindi capiamo innanzitutto se è possibile con la Regione avviare degli accordi di programma che consentano ai comuni di intercettare le risorse comunitarie senza avere soggetti intermediari che forse ieri avevano la possibilità di essere strumenti fondamentali per il nostro territorio, non oggi dove ha cambiato pelle anche la provincia di Salerno diventando di fatto un ente che dovrà coordinare un ente di aria vasta.